Buonasera a tutti, benvenuti al webinar di oggi che tratterà delle opportunità professionali in un settore molto di attualità, che è quello della sicurezza e della salute sul lavoro. Capita proprio il primo giorno della settimana europea per la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro, una settimana che poi ci vedrà impegnati anche come Dipartimento e come Ateneo in una giornata di studio che si chiama Selfie Day e che tratteremo il prossimo mercoledì, quindi mercoledì 26, presso l'Aula Magna del Rettorato in via Santa Maria Ingrati a Viterbo e tramite, sempre diretta Zoom, sempre in collaborazione con Porta Futuro Lazio. Magari alla fine del webinar vi darò anche ulteriori indicazioni per chi volesse partecipare e ancora non si fosse iscritto. Oggi abbiamo con noi l'ingegnere Matteo Rastelli che è un consulente esperto in materia di sicurezza salute sul lavoro e quindi di decreto legislativo 81 del 2008. Fa parte dell'azienda Gruppo Maurizi che collabora da noi, ha già collaborato fra l'altro anche nell'attivazione di alcuni di questi webinar e che appunto svolge anche consulenza in questo settore. Io non perdo altro tempo e lascio la parola con piacere a Matteo, prego. Non è sufficiente conoscere la materia per assicurare una corretta applicazione e quindi ho riportato una frase di Oscar White che da questo punto di vista trovo particolarmente significativa, l'esperienza. L'esperienza è quello che è il nome che si dà ai nostri errori. Quindi quando parliamo di sicurezza e mi riferisco in particolare al mio percorso di crescita che ho avuto modo di sviluppare in questi ultimi vent'anni di attività, è che l'esperienza spesso è la parte determinante per capire di che cosa stiamo parlando, per capire come implementare la normativa, come applicare soprattutto la normativa nella realtà. Purtroppo la legge, quello che riguarda la teoria, è una cosa che spesso e già di per sé non è chiarissima, ma l'applicazione della norma è tutt'altro che senza difficoltà e quindi questo inevitabilmente ci porta a commettere degli errori, ma è proprio negli errori che si tende a crescere, a rianalizzare, a modificare il nostro approccio e quindi ad avere un bagaglio che effettivamente ci porta poi anche a meglio utilizzare gli strumenti che abbiamo acquisito, che abbiamo appreso sui banchi di scuola o all'università o in tante occasioni dove appunto la teoria è fondamentale, ma è poi con la pratica che si acquisisce veramente l'esperienza per crescere, per avere una professionalità. Ecco, quindi se vogliamo racchiudere in due parole la professionalità di una figura che si occupa di sicurezza sui luoghi di lavoro è sicuramente l'insieme di queste due dimensioni, la conoscenza da un punto di vista teorico, ma anche la conoscenza da un punto di vista pratico, quindi il sapere e il conoscere è il connubio della professionalità di chi intende occuparsi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel momento in cui riusciamo ad acquisire una certa professionalità possiamo definirci degli esperti, quindi io nella fattispecie ho principalmente ricoperto il ruolo del consulente, anche se ho avuto esperienze come persona esperta all'interno di un'azienda, ma il consulente di fatto è un po' il coltellino svizzera della sicurezza, quello che dovrebbe avere una conoscenza abbastanza a tutto tondo di quella che è la sicurezza, ovviamente poi con delle peculiarità che derivano da quello che abbiamo detto prima, dal proprio percorso di studi, dalle proprie specializzazioni, dalle proprie esperienze, quindi sicuramente non possiamo conoscere tutto, o meglio possiamo conoscere di tutto un po' e poi però dobbiamo anche capire quelle che possono essere le specializzazioni che maggiormente ci piacciono o maggiormente troviamo interessanti per poter avere uno sbocco professionale nel mondo del lavoro. In genere, anche se in parte abbiamo già visto questo aspetto, di che cosa si occupa il consulente? Io come consulente dell'81-08, in materia di sicurezza e sicurezza di lavoro, ho anticipato rapidamente alla valutazione dei rischi, ma questo è solo uno dei tantissimi aspetti di cui potrebbe occuparsi un consulente in materia di 81-08, perché sicuramente c'è la parte piani di emergenza, che ho detto all'inizio, è un mondo estremamente ampio, complesso. Misure strumentali, anche qua spesso l'estrazione accademica aiuta sicuramente a specializzarsi magari in modo un pochino più approfondito nella parte di misurazione, che supporta poi le valutazioni di rischio, quindi l'utilizzo di strumentazioni di valutazione, fonometri, accelerometri, analizzatori di campi elettromagnetici e quant'altro. La formazione e l'addestramento, questa è un'altra attività personalmente abbastanza importante della mia quotidianità. Ci sono sicuramente mesi in cui la formazione, quindi la parte, il ruolo di docente o formatore, ultimamente viene più chiamato con questa definizione, al formatore in materia di 8 anni di sicurezza e sicurezza di lavoro. Anche questo è un aspetto importante, c'è chi si occupa solo di docenza, di formazione. A me piace personalmente anche fare formazione, ma non in modo esclusivo, anche per mantenere competenze più trasversali su tante altre attività che l'8108 richiede. La parte di consulenze vere e proprie al cliente, quindi riunioni di coordinamento, consulenze spot, piuttosto che la collaborazione per assicurare lo svolgimento delle prove di evacuazione, quindi l'incarico. Ecco, questo è un altro ruolo importante che spesso ci si ritrova a dover ricoprire, agli incarichi di responsabili o addetti al servizio di prevenzione e protezione come consulente esterno. Il consulente può essere anche un membro di un servizio di prevenzione e protezione di una piccola o meglio impresa, perché sappiate che poi dopo una certa dimensione le aziende non possono più avvalersi di un consulente esterno come loro RSVP, ma dovranno eventualmente assumere o formare una risorsa interna per garantire che il servizio di prevenzione e protezione sia interno all'azienda, quindi il responsabile non può più essere il consulente esterno, ma dovrà essere una risorsa interna. E questo è indubbiamente un altro, diciamo, sbocco professionale di chi ha una esperienza più o meno consolidata in materia di sicurezza sui luoghi lavoro. Abbiamo poi anche la necessità di interfacciarci con, io lo chiamo il nemico, anche se in realtà non dovrebbe essere assolutamente visto col nemico, ma anzi è un ulteriore, diciamo, viatico di collaborazione che sarebbero gli enti ispettivi, quindi il consulente spesso si trova a dover dialogare anche con ASL, piuttosto che ispettorati territoriali, vigili del fuoco, ok, che garantiscono, o meglio, svolgono attività di non solo, ma anche e soprattutto di controllo, di ispezione sul territorio, presso ovviamente quelli che possono essere clienti che io seguo in modo abbastanza magari costante, quindi dove magari c'è anche una conoscenza al di là della figura di consulenza, una conoscenza approfondita di una realtà e quindi chi meglio del consulente in materia di sicurezza sui lavori ha la possibilità di dialogare con gli enti ispettivi qualora dovessero esserci delle richieste o delle ispezioni, delle prescrizioni che vengono fatte ai clienti. Ecco, quindi questo è un po' lo spaccato, diciamo, non è esaustivo, ma sicuramente per quanto mi riguarda sono le principali attività di cui personalmente mi occupo e queste non sono tutte, sono solo una parte. Ecco, cosa vuol dire però fare il consulente? Che è, diciamo, la mia attività principale da quando mi sono laureato, io ho iniziato proprio dalla laurea a trattare il tema di sicurezza sui lavori di lavoro facendo uno stage, un tiracigno formativo all'interno di un'azienda nel nord Italia e vivendo in quell'esperienza proprio l'evoluzione della 626 in particolare per quel che riguardava il videoterminalista. Era uscita all'epoca, mi ricordo, la legge del 2000 che cambiava radicalmente la definizione del videoterminalista perché si passava da chi utilizzava per quattro ore consecutive il videoterminale, il computer, a chi utilizzava per venti ore, se vedi, settimanali un computer, un videoterminale e quindi chiunque facesse un'attività di tipo impiegatizio con un computer sulla scrivania di fatto era compreso in questa nuova, o meglio, questa ridefinita figura del videoterminalista e quindi si è trattato un po' di affrontare il tema sicurezza in modo trasversale quindi dalla piccola attività anche semplicemente il segretario, la segretaria di un piccolo studio di consulenza o del dentista alla grande multinazionale quindi a uffici con centinaia di persone che svolgevano un'attività prevalentemente di videoterminalista e questo è il primo, diciamo, ostacolo o meglio, la prima difficoltà che bisogna affrontare cioè riuscire a rapportarsi con realtà estremamente diverse tra di loro e rapportarsi con realtà estremamente diverse tra di loro vuol dire anche parlare con persone molto differenti è un qualcosa che ci si ritrova ad avere a che fare anche quando si fa formazione quando si è formatori a seconda del tipo di corso in formazione ti trovi a dover dialogare, a dover colloquiare, a dover insegnare, formare le maestranze quando si tratta di formazione generale specifica, obbligatoria per tutti i lavoratori fino a interagire con altri dirigenti d'azienda quindi con datori di lavoro che intendono anche ricoprire loro il ruolo di RSVP e quindi sono soggetti a un percorso formativo e quindi le caratteristiche, diciamo, individuali per questo ho riportato la figura del camaleonte perché sono abbastanza, devono essere abbastanza camaleonti cioè bisogna cercare di adaguardare il proprio approccio, anche il proprio linguaggio al contesto e soprattutto alle persone che ho di fronte a me quindi al cliente che mi ritrovo di fronte che può essere il titolare di un'azienda familiare quindi sostanzialmente un operaio che è cresciuto e ha assunto magari una, due, tre persone e quindi ha un certo tipo di esigenze, un certo tipo di problematiche allo stesso modo dialogando poi con un datore di lavoro un dirigente, un altro dirigente di un'azienda multinazionale che ha tutt'altro tipo di approccio nei confronti della sicurezza stessa e quindi ecco, questa è la prima, diciamo, caratteristica che secondo me qualunque consulente che si occupa di sicurezza deve riuscire ad acquisire cioè il capire esattamente chi ho di fronte e cercare anche di dialogare sulla stessa lunghezza d'onda ovviamente questo è qualcosa che in parte abbiamo potremmo avere di innato e in parte, anzi buona parte, sicuramente la esperienza mi aiuta ad acquisire soprattutto facendo il formatore ecco, io quando ho iniziato a occuparmi di sicurezza sui luoghi lavoro non pensavo di riuscire a essere un buon formatore non voglio ovviamente, diciamo, lodarmi però dai feedback ricevuti mi sono anche scoperto ecco, questa è stata un po' una sorpresa perché ovviamente è una soddisfazione ho scoperto di essere un buon formatore di riuscire a essere abbastanza efficace questa è la parte più importante della formazione non è tanto raccontare quello che il programma di un corso prevede perché bene o male quello, insomma, qualunque persona che ha studiato è abituato a fare, esporre la teoria esporla a qualcuno che l'ascolta ma quel qualcuno solitamente è un professore qualcuno che ne sa più di noi mentre per quanto riguarda la sicurezza esporre degli argomenti vuol dire rapportarsi a chi ne sa meno di noi e quindi è fondamentale riuscire a dosare tutta una serie di ingredienti per far sì che la formazione risulti efficace e quindi qua si apre un mondo su quelle che possono essere in parte ancora una volta le nostre capacità dialettiche anche semplicemente a quelle che sono appunto le capacità di variare il proprio linguaggio molto semplice o anche estremamente tecnico estremamente complesso cercando sempre di avere come obiettivo l'efficienza e l'efficacia soprattutto della formazione non esiste la migliore formazione di quella che sia stata compresa perché il fine della formazione è quella, quantomeno per la sicurezza sui luoghi lavoro è di far capire ai lavoratori l'importanza delle misure di sicurezza che devono osservare per evitare di farsi male quindi spesso è importante anche non dimenticarsi di quello che è l'obiettivo finale della formazione oggi fare il formatore vuol dire anche avere tutta una serie di requisiti che fino a pochi anni fa non c'erano e quindi gli ultimi accordi Stato-Regione hanno, nonché gli ultimi decreti ministeriali in materia di antincendio hanno aumentato un po' l'asticella di quelle che sono le competenze, le caratteristiche che un formatore per la sicurezza deve avere per erogare determinati corsi di formazione la formazione stessa è un concetto che negli anni è cambiato radicalmente una volta si considerava formazione anche semplicemente e banalmente la consegna di opuscoli formativi, informativi no, leggi questo e ti considero formato oggi sappiamo benissimo che questo non ha niente a che vedere con la formazione ma semmai potrebbe essere considerata la semplice informazione Altro, diciamo, sbocco professionale in parte già accennato è quello proprio di svolgere di essere membro di un servizio di prevenzione e protezione quindi come svolgendo il ruolo di ASVP o RSVP, no, rispettivamente addetti o responsabili del servizio di prevenzione e protezione c'è una sostanziale, diciamo, differenza non solo in termini di competenze ma soprattutto in termini di forma del ruolo l'RSVP viene nominato formalmente dal datore di lavoro tra l'altro è uno degli obblighi trasversali per tutte le realtà lavorative per tutte le aziende che hanno anche un solo lavoratore è obbligatorio nominare un responsabile del servizio di prevenzione e protezione sappiamo poi che questo può essere il datore di lavoro stesso nelle realtà medio-piccole oppure in ogni caso può scegliere il dato di lavoro di conferire questo incarico a una figura esterna a un consulente esterno tipicamente o addirittura se sono, se parliamo di realtà più complesse o che per legge hanno l'obbligo di nominare un RSVP interno quindi di assumere o di formare di incaricare una figura interna ecco io devo dire ho avuto una breve esperienza come ASVP o meglio all'epoca ancora non era definito veramente un ASVP ma diciamo di far parte di un servizio di prevenzione e protezione all'interno di aziende di notevole dimensioni dove c'erano anche un RSVP e più ASVP l'attività è molto diversa ovviamente fare l'RSVP come consulente esterno o come risorsa interna di una grande azienda porta ad approcciarsi in modo particolarmente diverso alla sicurezza aziendale il consulente vede tante realtà molto diverse tra di loro assicura ovviamente cerca di collaborare con dei referenti interni all'azienda per poter ottenere diciamo il massimo risultato con la minima spesa quindi questo purtroppo è un aspetto che sulla teoria non è nella teoria non emerge mai anche la normativa stessa non parla mai di soldi anzi in teoria non dovrebbe esserci un limite alle spese in materia di sicurezza e sicurezza di lavoro purché si riescano a garantire gli standard di sicurezza che l'approccio è assolutamente etico e corretto nella realtà questo è abbastanza utopistico soprattutto appunto negli ultimi anni vedo però che c'è una mano alzata di Giovanna Sivo sì buonasera buonasera Giovanna allora volevo dire una cosa a base di questa scheda qui la RSPP di solito è il datatore di lavoro giusto? cioè in senso aprendo un bar se uno o due persone massimo cioè di solito se lo prende è il datatore di lavoro la responsabilità giusto? sì è corretto di solito per una questione proprio di spese quindi per cercare di contenere al minimo le spese la legge lo prevede, lo consente il datatore di lavoro può assumere direttamente l'incarico di RSPP cioè di responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve però fare un corso di formazione per poter lui essere RSPP ecco infatti quello che stavo chiedendo quindi questo non fa parte di questo corso che sto facendo oggi vabbè in generale era sulla sicurezza sul lavoro però pensavo anche nella parte se uno si apre un'azienda che questo era sufficiente questo corso non è così giusto? no questo è semplicemente un webinar cioè una chiamiamola chiacchierata approfondimento rivolta però alle persone che vorrebbero fare questo di mestiere cioè vorrebbero diventare esperti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e quindi eventualmente anche ricoprire l'incarico di RSPP di aziende che magari hanno una struttura un pochino più complessa no un po' più complessa che scelgono di affidare l'incarico a un consulente esterno quindi non è normalmente appunto l'attività composta da due, tre, quattro persone che scelgono di affidare questo incarico a un consulente esterno proprio perché avrebbe un costo che difficilmente è sostenibile da una piccola realtà posso chiedere il costo? come quanto potrebbe costare un costo di genere? la consulenza è estremamente variabile non è questo il luogo però e il costo della consulenza è estremamente variabile perché dipende anche molto di che tipo di consulenza ha bisogno una piccola realtà se si tratta semplicemente di fare una valutazione di rischio piuttosto che di avere una consulenza costante e continua di formare anche delle persone di occuparsi anche della parte di sorveglianza sanitaria quindi può essere estremamente variabile anche il costo della consulenza ed è qua che il consulente deve anche riuscire a in base alla dimensione e alle disponibilità del cliente trovare il miglior compromesso per cercare di soddisfare quelli che sono i requisiti di legge perché la normativa impone al datore di lavoro tanti obblighi quindi l'abilità del consulente nell'attività di consulenza non necessariamente quella di RSVP è cercare di raggiungere magari anche per grado i principali obiettivi che sono quelli di osservare le normative di garantire la tutela dei lavoratori perché lo scopo principe è sempre questo garantire la sicurezza dei lavoratori attraverso la consulenza attraverso l'erogazione della formazione attraverso l'elaborazione dei documenti di valutazione dei rischi E quando prendi una persona esterna e ti viene un controllo diciamo un ispettore si rivolge a quella persona anche se esterno o è sempre il titolare da rispondere? Allora, l'ispettore in caso di ispezioni si rivolge sempre al titolare della società quindi al datore di lavoro poi chiaramente se il datore di lavoro ha un consulente un buon consulente che lo segue anche durante le normali attività lavorative ovviamente lui il consulente è la migliore interfaccia da utilizzare per dialogare con gli enti ispettivi perché conosce la materia e parlano la stessa lingua e parlano la stessa lingua quello sicuramente Eh, quello era la cosa importante va bene Quindi avvalersi prego avvalersi di un buon consulente è sicuramente molto importante anche e soprattutto quando ci sono delle ispezioni da parte degli enti di controllo Sì, perché io ho visto a volte quando uno non parla la stessa lingua si mette anche in ulteriore difficoltà Assolutamente Essendo straniera quindi a volte c'è una Certo, certo no, già di per sé la materia è molto complessa è ancora più complessa quando c'è anche una difficoltà di lingua alla base, certo Ok, perfetto la ringrazio Grazie a lei per l'intervento Ecco, quindi abbiamo abbiamo anche avuto modo di sviscerare un po' quali sono le dinamiche più più problematiche quando si ha a che fare appunto con delle piccole realtà che purtroppo non conoscono la materia quindi diventa anche la bravura del consulente a far capire a chi non conosce la materia l'importanza stessa della materia al di là della prevenzione della protezione della salute della sicurezza dei lavoratori anche il lato ispettivo quindi le ispezioni le prescrizioni le sanzioni che ricordiamoci possono essere amministrative ma spesso quando si parla di sicurezza sui luoghi di lavoro la sanzione può essere anche di tipo penale quindi anche durante i corsi di formazione bisogna sempre sensibilizzare non solo i datori di lavoro ma anche i lavoratori su quelli che possono essere anche riscontri risvolti negativi non in termini di danno di infortunio ma anche in termini di responsabilità responsabilità che ripeto non sono solo delle ammende economiche ma possono anche essere responsabilità di tipo penale quindi in questo caso è importante anche costruirsi una professionalità una autorevolezza per dare peso alle proprie parole però senza neanche terrorizzare o diffondere della diciamo della del terrorismo psicologico chiedo scusa l'ultima domanda quanto dura il corso del RSPP dipende dipende dalla dall'azienda dal livello di rischio dell'azienda si va da un minimo di 16 ore a un massimo di 48 ok perfetto la ringrazio io personalmente non sono un libero professionista lavoro come dipendente di una società di consulenza e vi ho detto nella maggior parte degli anni ho fatto questo come attività ma sicuramente uno sbocco professionale dell'esperto in sicurezza sui luoghi lavoro è quello di essere un libero professionista oggi forse è ancora più difficile rispetto rispetto al passato proprio per il motivo con cui ho aperto questa chiacchierata cioè il fatto che la materia è sempre più complessa è sempre più diciamo eterogenea richiede delle competenze e le esperienze sempre più ampie quindi libero professionista fare questa scelta ci potrebbe mettere di fronte alla scelta ulteriore tra specializzarsi e quindi diciamo rivolgersi solo a un determinato target in termini di clientela in termini di attività professionali oppure cercare di mantenere una certa flessibilità che però è un po' diciamo in contraddizione col ruolo del libero professionista inteso come il consulente che ha un'attività impropria e non si avvale di ulteriori collaborazioni ecco lavorare invece all'interno di un'azienda di consulenza ha anche un vantaggio da questo punto di vista perché ho la possibilità di un confronto continuo con altri colleghi con altre realtà quindi e crescere forse anche maggiormente in termini di non tanto di specializzazione ma di flessibilità questo sì quindi come sempre ci sono delle delle valutazioni da fare da mettere su entrambi i piatti della bilancia chiaramente il libro professionista ci porta ad avere un maggiore un maggiore grado di autonomia nelle proprie scelte ma sicuramente anche accettare un livello di rischio parlando di rischi sicuramente più elevato ecco dicevo poi i rapporti con gli enti ispettivi come in parte abbiamo già diciamo sviscerato rispondendo alla domanda di Giovanna spesso il consulente ha a che fare con gli enti di controllo e quindi anche qua le capacità di dialettica di di trovare un giusto incontro anche con l'ente di controllo non è non è così non è così scontato in questo caso più che le competenze serve anche molta esperienza sicuramente anche un'attitudine professionale nel riuscire a essere un buon mediatore tra quello chiesto e quello fattibile senza considerare che spesso ci troviamo davanti con degli ufficiali di polizia giudiziaria che comunque hanno anche potere esecutivo nei confronti del cliente in termini di sanzioni amministrative e legali quindi ovviamente bisogna capire bene come muoversi e fino a dove potersi diciamo spingere anche in relazione a quelle che sono le capacità le condizioni del cliente con cui mi rapporto in ogni caso ecco quello che possiamo definire il filo conduttore di tutta quella che è la sicurezza sul luogo di lavoro è la necessità che non si ferma mai di mantenere viva la propria conoscenza o meglio di approfondire costantemente la propria conoscenza di rimanere aggiornati perché la normativa quando parliamo di sicurezza sul luogo di lavoro è in costante continua evoluzione anche se vengono spesso almeno nel tentativo spesso vengono pubblicati decreti di semplificazione all'atto pratico poi difficilmente si traducono in un'effettiva semplificazione perché introducono ulteriori variabili ulteriori approfondimenti e quindi diciamo ben poco si semplifica a livello diciamo conoscitivo quindi il miglior consiglio che vi posso dare in questo momento è cercare di rimanere sempre molto aggiornati molto curiosi e di iniziare a capire in base a quelle che possono essere le vostre attitudini personali quale possa essere il miglior sbocco per voi quindi a seconda della diciamo anche dell'estrazione accademica se siete amanti diciamo degli aspetti tecnici ecco magari il formatore non è detto neanche questo potrebbe non essere il il miglior ruolo in cui vi potrete vedere da qua a due tre quattro anni però diciamo io in realtà ero proprio in questa condizione mi ritenevo tecnico molto tecnico ma poi ho scoperto anche di avere piacere nell'erogare nel fare formazione è anche abbastanza faticosa è abbastanza impegnativa anzi forse è una delle parti più impegnative della della sicurezza fare fare docenza però devo dire che forse è anche una di quelle che dà maggiori maggiori soddisfazioni cioè riuscire a trasmettere l'importanza della sicurezza in persone che magari fino a prima di entrare in aula erano molto scettiche e questa è diciamo la moneta di riconoscimento migliore per un formatore sentirsi dire guarda ho fatto un sacco di corsi di formazione erano tutti abbastanza noiosi per la prima volta invece sono rimasto interessato e mi è piaciuto e questo è sicuramente vuol dire sicuramente aver fatto centro ok io direi se ci sono domande vi lascio questi ultimi minuti per curiosità approfondimenti domande di vario genere vedo che in chat non c'è nessuno che ha che ha scritto però non so se perché volevate attendere magari la fine della della chiacchierata o perché effettivamente siete un po' come dire spaesati però mi piacerebbe che magari qualcuno appunto si esponesse perché magari ci sono domande che sembrano anche un po' come dire superficiali o scontate ma poi quando vengono fatte spesso sono domande comuni c'è una mano alzata sì vincenzo sì 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 buonasera buonasera vincenzo rastelli no niente volevo soltanto aggiungere che poi è una cosa sicuramente consapevole sicuramente cosciente a tutti che è un po' entrare nel mondo del lavoro è quasi un po' un cane che si morde la coda perché perché se tu non riesci un po' a a a darti a incanalarti in una direzione poi dopo diventi un naufrago in un mare magnum di normativa ed è difficile restare al passo è difficile poi barcamenarsi nel nel tentativo di tenere tutto sotto controllo tutta la normativa sotto controllo quindi ci vuole ci vuole pure forse un pizzico di intraprendenza nel lanciarsi a fare qualsiasi cosa così poi magari viene anche da sé l'esperienza lei per questo che cosa cosa consiglia qual è stata la sua esperienza personale allora io ho iniziato a occuparmi di sicurezza già all'università facendo proprio una laurea o meglio una tesi di laurea in materia di sicurezza sul luoghi lavoro che mi ha consentito di iniziare a capire cosa voleva dire lavorare con la sicurezza quindi ho fatto questo stage questo tiraccino formativo che ormai è diciamo parte integrante di qualsiasi percorso di studio che per fortuna poi ho avuto modo di proseguire anche oltre la diciamo il percorso accademico e questo mi ha fatto anche vedere quelle che possono essere le dinamiche aziendali all'interno diciamo di un ufficio che si occupa di sicurezza sui luoghi lavoro è chiaro che giustamente come ha detto lei la normativa è una normativa estremamente complessa estremamente ampia studiarla tutta è impossibile ma è impossibile anche per una questione di competenze cioè la normativa antincendio rispetto alla normativa sulla sicurezza legata alla valutazione del rischio chimico piuttosto che ai campi etromagnetici sono ambiti estremamente diversi dove ci servono anche delle competenze accademiche non indifferenti un biologo difficilmente riesce a valutare correttamente i rischi legati alla esposizione da campi elettromagnetici e così come un ingegnere civile o meccanico ha nozioni più o meno approfondite in materia di rischio biologico quindi è chiaro che come ho detto poi arriviamo arriviamo a un momento in cui dobbiamo decidere dove specializzarci e il contesto in cui si lavora ci aiuta però anche a mantenere diciamo una buona competenza un pochino su su temi molto diversi tra di loro io personalmente avendo lavorato tanti anni in aziende di consulenza ecco questo è un ambiente che consente di rimanere abbastanza aggiornati grazie anche al confronto interno con colleghi che hanno estrazioni e competenze diverse un po' su tutti i settori anche quelli più distanti da quelli che possono essere la semplice estrazione accademica però mi rendo conto che è difficile iniziare ecco poi nel momento in cui si trova nel mondo del lavoro non tutto viene da sé assolutamente non è così però si iniziano ad avere abbastanza chiare le dinamiche che purtroppo sui banchi di scuola non si possono non si possono conoscere no no infatti anzi molto spesso capita anche di fare dei colloqui dei colloqui di lavoro che sono dei veri e propri esami e questo capita sempre più spesso e questo sarebbe anche importante da 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 insegnare alle persone che vogliono fare in sicurezza e da da comunicarlo a queste persone perché comunque non è facile entrare nel mondo del lavoro quando poi ti ritrovi un'offerta di lavoro magari in uno studio di consulenza HCCP piuttosto che in un altro studio eccetera eccetera è tutto lì grazie 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 a lei altre domande non mi sembra in chat non ho non ho non vedo domande mani alzate non ne vedo c'era il dottor Cecchini il professor Cecchini che mi sembra volesse dire qualcosa e quindi magari gli lascio questi ultimi tre quattro minuti perché mi sembra che volesse dire qualcosa sì semplicemente voglio presentare il prossimo evento che avremo questa settimana che si chiama safety day che è una giornata di studio che teniamo ormai da dodici anni questa è la dodicesima edizione e che quest'anno appunto si darà il 26 26 ottobre mercoledì questi veni dopo domani vi condivido un attimo lo schermo così vi faccio vedere anche il programma ecco non so se riuscite a vedere lo schermo sì si vede quello del con laboratorio economia giusto ok questo qui è il programma della giornata che vedete ha come titolo come titolo prospettive future per la sicurezza e la salute sul lavoro in agricoltura e servicoltura verso l'approccio One Health io consiglio a tutti di partecipare anche perché chi ha già svolgesse già ruoli di RSPP RLS o SPP e quant'altro formatore e così via avrà anche acquisire anche dei crediti formati per l'aggiornamento il programma è riportato sul nostro sito web che è ergolab trattino unitus punto com vedete si parlerà di diversi argomenti da aspetti legati alla sicurezza quindi agli infortuni a problematiche di salute con un focus nel settore agricolo e forestale e parleranno esperti provenienti da enti pubblici come le ASL l'INAIL l'INPS e anche soprattutto nel pomeriggio interventi di professionisti che porteranno alcune loro esperienze è necessario iscriversi qui c'è un link per l'iscrizione basterà compilare un modulo online a chi volesse partecipare anche questa è un'iniziativa di Porta Futuro Lazio soltanto che in questo caso c'è un'eccezione ma la registrazione non avviene attraverso il portale ma appunto attraverso questa pagina web che vi ho citato quindi il link se volete vi metto direttamente in chat il link per la per l'iscrizione per chi volesse iscriversi basterà soltanto aprire questo modulo online e compilarlo non ho altro da aggiungere io ovviamente auguro a tutti coloro che vorranno interprendere c'è una domanda vedo la signora Giovanna Sivo che ha saluto sempre io perdonemi volevo sapere per un bar è considerato basso rischio o medio di solito un bar è un'attività considerata basso rischio basso rischio ok perfetto la ringrazio prego bene sì non so ci sono altre domande se ce ne sono approfittate altrimenti possiamo anche chiudere do un attimo la parola a Porta Futuro Lazio che ci darà alcune delucidazioni conclusive come sempre professore la ringrazio ringrazio anche il dottor Rastelli per l'incontro di oggi e chi avesse necessità di un attestato di partecipazione può fare riferimento alla stessa mail dalla quale ha ricevuto il link per la giornata di oggi e una buona sera da tutti perfetto grazie a Porta Futuro Lazio ringrazio l'ingegner Rastelli e il gruppo Maurizio e tutti voi per aver partecipato e vi do appuntamento quindi alla prossima occasione arrivederci grazie a tutti buona serata